è solo questione di anni e poi non ci saranno più testimoni in vita della Shoah non ci sono quasi più i nazisti che perseguitavano, rastrellavano e mandavano a morte gli ebrei e tra poco non ci saranno più neanche pochi superstiti della loro macchia di genocidio i primi misero in atto la Shoah ai secondi è toccato l'ulteriore scempio di raccontarla e rievocarla ciò non significa che dobbiamo dimenticare ciò non significa che dobbiamo ignorare anzi bisogna ricordare e non solo il 27 gennaio la memoria c'è indispensabile per evitare che tutto ciò un giorno si ripeta il lento processo che ha portato all'elaborazione delle leggi razziali e alla Shoah fu possibile grazie all'omertà e alla complicità europea che fu decisiva in quegli anni si ebbe come risultato un crudele genocidio, forte sfruttamento e soprattutto si demolì l'essere umano si viveva nel terrore, non ci si guardava nemmeno più in faccia bastava sopravvivere, sfuggire ai nazisti parecchi cercarono di nascondersi in altri paesi ma pochissimi sfuggirono alle rappresaglie un annuncio delle ultime ore ci riporta che sono state comunicate nuove restrizioni per le persone di religione e cultura ebraica era servito così tanto tempo per arrivare alla nascita delle leggi razziali ma per venire presi e portati via nei campi di concentramento ne bastava davvero pochissimo in una manciata di minuti si diceva addio alla propria vita al proprio lavoro e anche ai propri familiari i nazisti agivano con rabbia, brutalità strattonavano, picchiavano, ti costringevano a salire su camion o treni iniziava così un lungo viaggio verso l'incognito non si sapeva nulla del proprio futuro si poteva solo immaginare giunti al lager iniziava il vero incubo erano diversi i trattamenti atroci a cui venivano sottoposti i deportati gli uomini e le donne venivano divisi si veniva privati dei propri averi i capelli venivano rasati e si finiva stipati in stanzoni con tantissime altre persone sconosciute mancava il cibo, l'igiene, l'umanità inoltre si veniva registrati ognuno possedeva un numero cucito sulla giacca e tatuato sul braccio inciso per sempre non solo sugli indumenti era presente anche un triangolino colorato un colore per ogni razza sì, perché nei campi purtroppo non c'erano solo ebrei venivi deportato anche se omosessuale prigioniere politico immigrato o senza dimora nei campi si assisteva alla condensazione dell'anima umana anime costituite di spietata durezza e cattiveria anime succubi e indifese anime più forti e speranzose anime malvagie e anime che volavano via lontano appena varcata la soia dei lager l'uomo era trattato al di sotto delle bestie da soma in giorni di freddo e senza cibo se eri tra i più fortunati oltre ad una zuppa di orzo allungata con acqua riuscivi a prendere anche un tozzo di pane venivano a mancare quelli che oggi definiamo i diritti fondamentali dell'uomo persino il nome del singolo era rimpiazzato da un banalissimo numero non era facile nemmeno socializzare spesso ci si trovava a contatto con persone che parlavano una lingua straniera ed era difficile contare l'uno sull'altra immaginate quanto sia difficile svegliarsi ogni giorno in un lager guardare sempre i cammini fumanti vedere le persone decimarsi ogni giorno lavorare incessantemente fino a non farcela più star lontano dai propri cari nei campi di concentramento si viveva di mancanze la mancanza del nome la mancanza di capelli la mancanza di vestiti adatti la mancanza di cibo la mancanza di dignità la mancanza di mestruazioni la perdita delle mestruazioni feriva profondamente le donne e tra tutte le mancanze dalla più sentita alla più piccola si conviveva con il costante terrore della morte un terrore che lentamente si trasformava in speranza voler morire per non vivere più una situazione del genere la brutalità la cattiveria la crudeltà erano elementi costanti e decisivi nei campi un solo gesto poteva valere la vita fino alla liberazione si visse così invilico nel dolore silenzioso poi la luce il ritorno alla vita fuori dai campi tutto assumeva colore con pazienza e mitezza ogni sopravvissuto si accinse a rimettere insieme i propri pezzi e ricostruire la sua vita come un puzzle ognuno con la sua storia alle spalle con le proprie debolezze e forze ognuno così unico ma tutti con lo stesso desiderio volevano la vita la loro vita non fu facile tornare a casa alla normalità le cicatrici di un episodio così tragico restavano impresse nel cuore e nella mente ma la speranza era tanta così come la voglia di ricominciare e prendere in mano la propria vita venite portata nel 1944 fui venuta ai fascisti dopo aver cercato di ripararmi in Svizzera come da altri altri ebrei mentre viaggiavo verso Auschwitz sentivo ripetere sempre la stessa frase «Durch den Kamin» da qui si esce solo attraverso il camino nei lager consolavo quanto più potevo le mie compagne e per questo motivo una volta tornata a casa nella mia cara Italia ho sentito la fortissima necessità di testimoniare sono diventata una paladina ben presto subito dopo la liberazione mi sposai e mio marito mi offri un'occasione per cancellare il mio tatuaggio la colsi e mi sbarazzai del mio numero ma scomparve solo sulla mia pelle perché quel tatuaggio resta impresso nella mia anima Goti Bauer fui arrestato ad Atene e deportato nell'aprile del 1944 nel 2005 tornando ad Auschwitz per la cerimonia ufficiale del 27 gennaio giorno della liberazione del campo di sterminio ho pensato uno può perdonare un altro no io posso perdonare ma con il cuore freddo una volta fui coinvolto con mio cugino uno degli ebrei reclutati per trasportare i cadaveri al forno crematoio nello scambio di qualche dente d'oro con altra merce soprattutto pane venimmo scoperti io porto ancora sul volto la cicatrice e le percorse subite mio cugino fu ucciso la mia più grande consolazione risiede nella mia famiglia creata dopo il ritorno loro sono tutta la mia vita il mio raggio di sole dopo tanto buio Benjamin Capon le deportazioni da Salonico in Grecia cominciarono a metà marzo del 1943 una sola famiglia per quanto si conosca è arrivata ad Auschwitz-Birkenau ed è tornata a casa senza perdere alcuno dei suoi membri ed è la mia fui preso dai nazisti quando avevo 15 anni la popolazione ebraica all'inizio delle deportazioni era quasi la metà di quella dell'intera città di Salonico dei 58.500 ebrei deportati ne tornarono meno di 2000 io e i miei familiari eravamo tra i primi deportati ci salvarono perché conoscevamo il tedesco e quindi eravamo in grado di essere utili ai nazisti mi salvai per fortuna grazie all'istruzione che avevo ricevuto uscito dal campo continuo ai miei studi non mi arresi alla vita ho scritto e pubblicato un libro sulla mia storia Heinz Salvatore Fui prigioniera a Bergen-Belsen per sei mesi nell'agosto del 43 un periodo più breve rispetto ad altri ebrei perché sono spagnola e la Spagna al tempo delle deportazioni era alleata della Germania pur non avendo accettato di legarsi all'asse e di partecipare alla guerra fu io stessa inconsapevole ad accompagnare alla stazione i genitori del mio fidanzato Alberto che sarebbero saliti su uno di quei convogli diretti in un campo di sterminio Alberto poi divenne partigiano e fece un giuramento non si sarebbe dato pace se non si fosse vendicato dai tedeschi tornata a casa alla fine della guerra dopo lunghe peripezie in giro per il Mediterraneo mi sposai con Alberto e ho viaggiato insieme a lui stancabilmente come se in questo modo potessero essere compensati di quanto subitite i danzisti Nina Berrubi sono stato arrestato nel febbraio del 1944 e condotto nel campo di Fossoli il 16 maggio dello stesso anno fui deportato ad Auschwitz assieme a tutta la mia famiglia sono l'unico superstite a 18 anni sono rimasto orfano questa esperienza devastante ha fatto di me un uomo diverso un testimone per tutta la vita la mia salvezza è arrivata per caso quando giunse al campo un ufficiale delle SS chiese se tra i prigionieri ci fosse qualcuno che conosceva il tedesco allora mi fece avanti alla domanda successiva tu da dove vieni? la risposta fu Firenze produsse quasi un miracolo la gente nazista cominciò a ripetere il nome della città evocando ricordi personali e manifestando simpatia per me inoltre dopo aver scoperto che sapevo cantare i capi del campo di sterminio mi invitarono a intrattenerli nelle loro baracche e in queste occasioni avevo la possibilità di mangiare qualcosa in più del rancho riservato agli altri prigionieri veni liberato nel campo di Buchenwald dove era stato condotto dall'SS alla fine della guerra tornato alla mia vita mi sono laureato alla Bocconi a 43 anni mantenendo una promessa che avevo fatto a mia madre Nedo Fiano venne liberata nel 1945 al campo di Malshow dei 776 bambini italiani di età inferiore ai 14 anni che furono deportati al campo di concentramento di Auschwitz io sono tra i soli 25 sopravvissuti tentai assieme al papai e ai nonni prima di nascondersi e dopo l'8 settembre 1943 di fuggire in Svizzera venimmo catturati alla frontiera e fummo deportati ad Auschwitz-Birkenau dove rimasi sola ad affrontare l'inferno del campo di sterminio e del lavoro forzato sono stata l'unica della mia famiglia a fare il ritorno a Milano dopo lo sterminio nazista visti con i nonni materni fu molto difficile per me tornare alla realtà mi chiusi molto in me stessa non mi sentivo al pari degli altri mi sfogavo sul cibo e dopo anni cadde in depressione ma nel 1948 conobbi Alfredo cattolico anche egli reduci dai campi di concentramento nazisti per essersi rifiutato di aderire alla repubblica sociale e mi innamorai per la prima volta e iniziò lì la mia felicità ci sposammo nel 1951 ed avemmo tre figli per molto tempo non ho mai voluto parlarne pubblicamente del mio vissuto ho deciso di interrompere questo silenzio nei primi anni 90 e da allora mi sono resa disponibile a partecipare ad assemblee scolastiche e convegni di ogni tipo per raccontare ai giovani la propria storia anche a nove dei milioni di altri che l'hanno condivisa con me e che non sono mai stata in grado di comunicarla Liliana Segre ma non tutte le storie hanno un lieto fine c'è chi non ce l'ha fatta a tornare alla realtà chi da quei campi non è mai uscito e chi non si è reso e ha continuato a cercare amici parenti vicini di casa che la furia nazista aveva trascinato via quel che è accaduto non può essere cancellato ma si può impedire che accada di nuovo l'olocausto è una pagina del libro dell'umanità da cui non dovremo mai togliere il segnalibro della memoria se comprendere è impossibile conoscere è necessario per non dimenticare